Ciao a tutti, sono Tifetta e bentornati nel mio canale. Riprovo di nuovo questo cazzo di minigioco e se non riesco a superarlo basta, perché mi sono ruota i coglioni. Cioè non riesco ad andare oltre le piante, che palle! Che palle enormi! Alzati coglione, comincio a correre! Non posso saltare, no. No! Quanto ti ci vuole a riprendere conoscenza? Muoviti! Ok, andiamo al rendezvous! Che due bolle! Ah, mi ha pure levato la mira automatica. Ale! Dai, muoviti! Bom! Allora, sto pezzo qua ho imparato a farlo anche discretamente bene, perché... Quanto sono morta cinque o sei volte? Porca di quella troia! Cazzo, ero a metà più o meno, non so neanche che mostri ci siano più avanti. Allora, qua evitiamo... Allora, qua evitiamo... Ah, dove stiamo qua? Boh! Ok, un altro ostacolo è stato superato. Adesso il prossimo. Qua ci sono i ragni. Mi hanno ammazzato la prima volta, sti maledetti. Vediamo se riesco a evitarli. Dai, primo è stato evitato. Secondo, 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 secondo. Anche questo ostacolo è stato superato e stavolta non mi avete nemmeno avvelenato, brutti bastardi. Arrgh! Ale! Mi hanno beccato i cani. Mamma, c'ho l'ansia. A capire che questo minigioco è pura ansia. Allora, qua devo... Veloce. Che arriva quello infocato. Bon, qua. Costito il muro. Bon! Ok, altra stanza è stata superata. Mamma, che ansia, che ansia, che ansia. Sa solo chi c'è il primo piano. Il secondo piano non so chi c'è. Ma lol! Che schivata da maestra! Madonna, qua ci sarebbe da fare del replay, però, eh. Lol, che brava! Basta. Andiamo avanti. Allora, qua ci sono le corvi, quindi posso correre tranquilla. Fuuu. Qua c'è il piano e qua bisogna farne fuori alcuni, perché sennò... E' che dopo non so assolutamente che mostri ci sono, perché non riesco ad andare tanto avanti. Allora, via, via, via. Ok. Allora, qua ci sono zombie. Fino all'atrio. Per cui facciamoci strada. Eh, vabbè, potevo anche evitare, ma che se ne frega. Allora, avanti. Ah, non siete caduti. Ehi, ho fatto uno strike. Ok. L'ansia alle stelle. Ma proprio alle stelle. Ok. 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 E sono arrivata all'atrio. Dai. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Non ho usato neanche un'erba. Dai che se sono andata bene. Allora, qua ci sono i ragni. Ok. Uno stelle. Anche l'altro. Che culo. Ok. Ma non laggarmi, però, cazzo, ad ogni singola porta. Mi rompo un po' il cazzo, sai. Mamma che ansia, mamma che ansia, mamma che ansia. Ho il cuore che batte a mille. Ho il cuore che batte a mille. Cazzarola. Pezzo di merda. Ok. Allora, qua adesso ci sono le piante. Dai, non ho usato nemmeno una... Un'erba. Dai, che ce la posso fare? Devo stare attenta a non farmi avvenire. Aia. Mi ha avvelenato. No, che culo. Dai, dai. Nascondiamoci. Non sono mai riuscita ad andare più avanti di così prima. Cazzarola! Porca puttana! Zio Tran! Mamma che ansia! Non ce la farò mai a finirci sto livello. Non ce la farò mai. Chi c'è qua? Altre piante! E poi? Cazzo, devo farle fuori e non ce la faccio passare di là. Non ce la farò mai a passare. Poi ho anche finito i colpi di magno. Ok. E queste qua le ho dovute far fuori. Ah, qua sopra me lo ricordo. C'è Mr. X. Oddio, no. Oh, no! Che ansia, che ansia! Oh, che fallo! Ma perché me l'ha fatto fare di qua sto minigioco? Oddio, eccolo che arriva! Oddio! Adesso qua vediamo se riesco a fargli lo slalom. Vieni qua vicino alla renghiere, ciccio. Dai, non prendermi. Non prendermi. Via! Via, via, via! Ah, ce l'ho fatta a schivarlo! Facchie, vai in culo! Meno male non corre. Ok, anche questo è stato fatto. Adesso, chi c'è qui? Chi c'è? Chi c'è qui? Ah, solo zombie striscianti? Beh, allora uso un po' di proiettili e pistola. Ok. Ma qua facciamoli fuori con la pistola che non devono prendermi la gamba. Com'è? Ok, ne arrivano altri strisciando. Mamma, che ansia. Dai, qua ci sono i zombie. Chi c'è poi? Di striscia non serve più nessuno. Sono tutti due, sono tutti a terra. Ok. Qua c'è qualcuno? Ok, no. Chi ci sarà nella prossima stanzina? Chi lo sa? Oh mio Dio! Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi ci sarà qui? Chi ci sarà? Lickers. Marroni oltretutto. Allora, vediamo di non far rumore. Procediamo a passi. Lenti. Magari ce la faccio. No! Ormai mi ha sentito! Oddio! Oddio! Oh mio Dio! Mamma, c'è un'ansia, ragazzi. C'è un'ansia. Allora, qua nella biblioteca avrò qualcuno? No, sono sparite addirittura anche le colonne. Buono, ok. Ok. Allora, calma. Sangue freddo, dai. Io sono tifetta, ce la posso fare. Dai, dai. Sto andando bene per ora. Dai, non ho voglia di rifarmi tutto, vi prego. Piante. Però sono distantine. Magari posso attaccarle da lontano. Ho finito colpi di Magnum. Vado con la pistoletta. Ok, una è morta. Ce ne sarà un'altra? Sì, perché la sento. Eh, non la vedo, però sento. Però sento il proiettile che la colpisce, per cui continuiamo. È che non vedo proprio dov'è, cazzo. Oddio, è vicina. Allora allontaniamoci. Morta, perfetto. Quante stanze mi mancano. Allora, una, due, tre. Dai, cazzo. Non ho usato nessuna erba finora, dai. Qui chi c'è? Chi c'è qui? Chi c'è qui? Chi ci sarà qui? Zombie. Zombie. Eh, cazzo. E qua come facevo a bloccarvi? Appena è entrata mi avete morso. Sono anche pericolante. Cristo. Merdo. Cazzarola. Cazzarola, via. Prima non posso morire qui. Mi prego. Ah, ce l'ho fatta. Dai. Qui chi c'era? Qui chi c'era? Qui chi c'era? Qui chi c'era? Altri zombie. Cazzo, dovevo ricaricare. Merda. Dai, sono all'ultima stanza. Qui c'è un altro Mr. X. E poi sono arrivata. Dai. 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 Gran fatti che mi incida proprio Mr. X. Gran fatti. No, vi prego. Oh mio Dio. Allora, dai. Cazzo, non vedo dove sono. Mi copriva la visuale sto stronzo. Oh, finito. Sì. Basta, mamma. Che grado di ansia. Non lo rifarò mai più questo mini gioco. Andate tutti a fanculo. Ah, che bello. Ce l'ho fatta. Mamma mia. Mamma mia. Che sollievo. Qua dove ci vuole a prelevarlo con l'elicottero? Madonna. Ah. Beh, ragazzi, sono soddisfatta. In tutta la mia vita l'avrò finito una volta, forse, questo mini gioco. Il resto l'ha sempre fatto mio fratello. Quindi, dai, sono soddisfatta. Sono riuscita a superarlo. Le mie coronarie, i miei nervi. Provo a premere. Ah, no. La gente sopravvissa e riuscì a scappare con il virus G. Il virus finì così nelle mani dell'ombrella. Eh, lol. Eh, ho capito. Ho capito. Ah, dovevo premere, forse. Ok, abbiamo capito. Altro? La fine di un incubo fu il preludio di un altro. Eh, succede. D'altronde ci hanno fatto un casino con i virus. Eh. Oh, c'è qualcosa? Boh. È tutto, veramente. Grazie di cuore a chi ha seguito questo gameplay. Alla prossima. Ciao!